Salve, sono Francesca, sono diplomata in naturopatia euristica, laureata in scienze motorie e specializzata in posturologia. Da diversi anni, qui nel mio centro, mi occupo di rieducazione posturale, avvalendomi di diverse metodiche. È un lavoro senz'altro molto interessante e gratificante, ma il vero cambio di marcia si può dire che l'ho avuto da quando, anni fa, ho iniziato ad adoperare la nanotecnologia Taupet. Sicuramente, dopo averlo sperimentato su me stessa con eccellenti risultati, mi sono sentita completamente sicura di proporre un prodotto, un metodo di alta qualità per il bene dei miei pazienti e allievi. I risultati sono stati e sono tuttora eccezionali e sono tutti risultati misurabili, veloci da realizzare e duraturi nel tempo. Questo chiaramente ha ridotto anche sul fronte, diciamo, di noi terapeuti, l'impegno da un punto di vista di fatica, tempistica, chiaramente per arrivare poi agli stessi risultati e quindi questo ha permesso anche per noi terapeuti la possibilità di accogliere un maggior numero di pazienti. Sono molti i casi di risoluzioni, tra virgolette, miracolose che in questi anni ho potuto vedere, ma voglio parlarvi del signor Roberto. Questo signore di 48 anni, sei mesi fa, è venuto da noi dopo aver consultato diversi medici, specialisti in Italia e all'estero. Il signor Roberto dieci anni fa ha subito un gravissimo incidente, dal quale ha riportato frattura a più livelli del bacino, a livello di torpi vertebrali, e fuoriuscita di ernie, si è creato un slivellamento delle creste liache importanti, e chiaramente oltre a una serie di importanti algie quotidiane, il problema principale era la completa perdita di sensibilità dell'arto inferiore sinistro, nonché anche una ridotta capacità motoria sempre dell'arto sinistro. Bene, il signor Roberto ha iniziato a utilizzare i top patch, e pressoché, direi, immediatamente ha subito avvertito un cambiamento, un cambiamento posturale, un riallineamento importante delle creste liache, e nel giro di pochi giorni il signor Roberto ha percepito una quasi totale scomparsa di quelle parestesie, che da ben dieci anni avvertiva a livello dell'arto inferiore sinistro, e ha potuto quindi iniziare un tipo di terapia, anche motoria, sempre presso il nostro centro, che ben, diciamo, si sposava con i risultati ottenuti poi con i top patch, quindi le due cose hanno viaggiato di pari passo per circa sei mesi. Risultati incredibili, stupefacenti, tanto più che appunto questa persona ha veramente, aveva veramente perso le speranze dopo le varie consulenze con primari e specialisti nel settore ortopedico. I top patch sono veramente una tecnologia innovativa, ma altrettanto importante è il metodo di impiego che viene insegnato a noi operatori presso la Tao Technology con la sede in Cornigliano Veneto, e la modalità e la metodica quindi impiegata durante questi corsi di specializzazione, informazione, è un'ottima sintesi tra pratica e teoria durante i quali in modo estremamente semplice vengono date le giuste chiavi per il corretto impiego della nanotecnologia, affinché l'utente possa beneficiare al cento per cento dei dispositivi della nanotecnologia Tao Patch. Quindi io voglio ringraziare infinitamente il dottor Fabio Fontana per questa meravigliosa invenzione che sono scelta cambierà nel mondo il modo di guardare alla malattia e soprattutto alla guarigione. Grazie